Ciao a tutti da Saludatore, una grandissima sorpresa, per me un onore, un piacere e un piacere. Anche per me, anche per me, a tutti voi auguro cose belle in prossimità delle feste natalizie del nuovo anno, a tutti quanti auguri ma soprattutto buona vita, ciao! Ecco, io ti ringrazio e abbiamo appena visto la tua premiazione meritatissima del premio del grande Vincenzo Croscitti, che come hai detto tu bisogna sempre ricordare la memoria, e qui posso far vedere questo meraviglioso premio che tu hai ricevuto e che sicuramente dedichi a tutti i tuoi fan. Ma dedico intanto un pensiero a tutte le persone che in questo momento hanno voglia di sentirsi augurare qualche cosa, quindi gli auguri in questo momento sono necessari, con tutto il cuore. Grazie di cuore e io ti regalo la manina del salutatore, io sono il salutatore, così per salutare tutti quanti i tuoi fan con premio e manina. Grande Rea Bullotta, grazie di tutto. Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie a te, ciao, faccio la foto, mi fa molto piacere, questa è tua della ricetta.